Ok, benvenuti, vediamo la lezione di venerdì scorso in cui abbiamo introdotto come usare e come fare un rigging elementare usando dei prodotti gratuiti, poi vedremo che ce ne sono anche a pagamento e in particolare questo qui, Avatar Workbench Allora, l'Avatar Workbench è un prodotto fatto da Machini Matrix quindi seguito dagli stesse persone che fanno il prodotto a pagamento però è completamente gratuito, è open source ed è semplicemente un file .blend quindi voi praticamente entrando su questo sito vedete che vi spiega tutta la storia quindi chi l'ha fatto? L'ha fatto Domino Marama che l'ha reso disponibile in origine che poi Domino Marama è la stessa persona che adesso sta aiutando il progetto Avastar insieme ad altre persone e stanno facendo anche il prodotto a pagamento però nel presente la cosa importante è che c'è questo Avatar Workbench 265.blender allora questo signore è quello che voi vi scaricate ed è quello che andremo poi a... quindi sotto C quindi andiamo sotto il mio Blender quindi io qui ho installato il Blender 269 e facciamo open di Avatar Workbench 265 quindi facciamo un po' la conoscenza di questo file allora questo oggetto è composto come vedete da una donnina la donnina è da uno scheletro almeno così si vede in realtà vedete che sono selezionate il primo e il decimo layer allora nel primo layer se selezioniamo solo lui c'è solo la donnina la donnina è fatta da una parte alta cioè Head Mesh da una parte... cioè della testa da una parte alta Upper Body Mesh e della parte bassa allora la caratteristica di queste Mesh è che sono rigate lo vedremo più tardi cosa vuol dire rigate però nel frattempo la prima cosa che è evidente è che se avete aperto il gruppo di vertici questo vedrete qua che compaiono selezionando l'oggetto tutte le ossa che sono le ossa che fanno parte del rigging ok? ora il... vediamo un po' gli altri pezzi quindi se noi selezioniamo la seconda secondo layer vediamo un altro avatar femminile questa volta anche questo è rigato ma vedete che è un po' diverso da quello standard di Second Life perché è fatto con un prodotto che si chiama Make Human adesso lo vedremo magari poi brevemente fra un attimo finiamo di vedere i livelli nel terzo livello abbiamo uno scheletro con maschile invece c'è lo scheletro più una Mesh maschile anche questa rigata opportunamente e poi abbiamo nella sesto abbiamo due oggetti interessanti c'è una gonna e dei capelli su cui si possono costruire delle altre Mesh e poi nell'ultimo punto abbiamo semplicemente lo scheletro, l'armatura corrispondente ora abbiamo detto, visto che abbiamo citato parliamo di Make Human allora Make Human è un prodottino che ha distratto alcune interesse a lezione se voi cercate Make Human vedrete che compare proprio un prodotto open source è questo prodotto open source scaricabile e credo che giri su diverse architetture comunque ad esempio comunque lanciamo c'è una versione credo vecchia ma comunque il concetto poi magari farò anche delle lezioni su Make Human ma nel frattempo vedete che abbiamo la 1,0, alfa, 7 in realtà adesso è uscita la 1,0, 0 che poi andrò a scaricarmi la mettiamo più o meno fullscreen quindi vedete che vi permette di poter costruire delle shape adesso questa shape qua sembra un po' strana perché? perché è una shape che è mista cioè un genere maschio-femmina insieme in realtà modificando queste cose abbiamo una struttura maschile oppure l'altra estremità è la struttura femminile e possiamo costruire delle vie di mezzo così come possiamo anche mettere le caratteristiche dell'età quindi mettere un'età un po' più avanzata oppure mettere fare delle mesh di bambini quindi sono tutte cose interessanti e poi vabbè si possono cambiare le caratteristiche ad esempio così diventa afro già bambino oppure asiatico quindi sono delle caratteristiche varie e una volta completato la mesh che vi interessa è possibile fare l'export quindi qui abbiamo la possibilità vabbè poi non sto a dettagliare tutte queste cose comunque c'è il credo sotto files c'è la possibilità di esportare e si esporta o in formato obj wayfront che è già direttamente importabile in blender oppure si usa il blender exchange mhx che è un formato interoperabile direttamente con blender o addirittura il collada che sappiamo essere anche lui abbastanza interscambiabile in questo caso consiglio l'mhx che è leggibile direttamente da blender dall'import adesso qui non lo vedete l'mhx però c'è l'obj e il collada ma se andate nel user preferences e negli addons dovreste trovare l'mhx come addon abilitabile eccolo qua e facendo in questo modo abilitando questo oggetto potete importare direttamente gli make human mhx comunque adesso non è questo l'oggetto del nostro corso di stasera allora vi ho visto quindi che c'è questo queste varie parti vediamo adesso come possiamo in realtà costruire queste parti cioè usare questo avatar workbench per ottenere invece un nostro rig in particolare allora per fare ciò facciamo un import di un collada che abbiamo costruito quindi io se volete poi vi metto nei commenti del video insomma dove andare a scaricarvi un manichino però ho preso un manichino da un punto della rete dove si possono scaricare dei modelli 3D anzi facciamo una cosa facciamo vedere dove l'ho preso l'ho preso da blender blend swap blend swap è un sito questo che consente di scaricare gratuitamente dei modelli quindi adesso ci sono tantissimi modelli bisogna registrarsi per poterli scaricare la registrazione è gratuita ok un attimino che entro così vi faccio vedere cosa cosa si può fare brevemente ok quindi a questo punto noi possiamo andare nei vari blend possiamo cercare i blend c'è il search ad esempio qui cerchiamo un mannequin che è il nome dei manichini su cui stavo lavorando in particolare io ho preso questo rigged wooden mannequin cioè un manichino vedete questo è un modello di legno sul quale c'è già una impalcatura un rigging ma noi vogliamo riportarlo per re-riggarlo sono due megabyte ha una licenza cc-buy cc vuol dire creative commons e buy vuol dire che se la si usa come sto facendo io occorre dare il credito e il credito lo sto dando in questo momento è Sebastelle quindi Sebastelle è questo signore che ha fatto infatti bisogna dare il credito all'autore di questo blend potete trovare anche altri tipi di licenze in realtà sul creative commons c'è il buy che significa dare attribuzione ma c'è anche l'nc non commercial oppure share like se c'è solo buy potete fare quello che volete basta che diciate da chi l'avete preso nc non commercial vuol dire che potete fare quello che volete a condizioni di non venderlo quindi in realtà non potete guadagnarci quindi il cc-buy vi permette eventualmente di metterlo in applicazioni anche economiche in cui eventualmente guadagnate qualcosa però siete regolari perché non avete rubato niente a nessuno questo è un po' il concetto dell'open source allora io mi sono scaricato questo oggetto che è un punto zip dentro ho trovato credo un po' di cose un collada eccetera ho visto adesso non sto qui a dettagliarlo che questo modello era dimensionato molto più grosso rivoltato in direzione sbagliata c'era appunto anche il già questa armatura che era diversa da quella di second life quindi io l'ho editato parecchio e poi il risultato l'ho lo reso disponibile provvisoriamente su internet quindi voi trovate andando su ali qua a a di sl lsl e poi mannequin no manichino forse l'ho chiamato manichino da regare punto dae ok quindi manichino da regare punto dae e questo praticamente è la cosa che vi faccio vedere adesso come poterla gestire in breve ok quindi andiamo in blender andiamo su un quindi andiamo in un punto vuoto qua ok ci mettiamo magari proviamo vabbè facciamo l'import di questo manichino quindi facciamo import collada andiamo sotto c vediamo in ordine di ok manichino da regare 1 ok allora manichino da regare 1 vedete eccolo qua ce l'abbiamo e questo manichino da regare dobbiamo fondamentalmente metterlo in modo tale che sia allineato con il con il nostro scheletro questo è lo scheletro e questo è il nostro manichino aspettate questo quindi faccio shift e metto anche lo scheletro ok quindi vedete che il manichino adesso è messo sopra magari mettiamo un materiale sul manichino che ce lo fa vedere un pochino più chiaro perché qui non si capisce niente quindi lo facciamo il manichino bello chiaro ok vedete ok a questo punto è abbastanza è quasi a posto quindi volendo si potrebbe già regare così al limite se uno volesse potrebbe vedere un po' di centrarlo leggermente di più allora l'obiettivo è quello di fare in modo tale che lo scheletro sia quanto più possibile dentro la struttura questo si può ottenere modificando leggermente il manichino oppure modificando lo scheletro andando in edit e modificandolo per il momento ci mettiamo sul semplice quindi facciamo in modo tale di in realtà ho modificato il manichino perché l'avevo già fatto prima però come vedete non è proprio perfetto quindi probabilmente bisognerà farci anche altre operazioni ma nel frattempo vediamo un po' la sequenza di rigging se funziona magari potrebbe anche andare bene già così insomma rigging poi facciamo rigare selezioniamo tasto destro il nostro manichino dunque che si chiama stickman vedete poi facciamo shift e selezioniamo l'armatura a questo punto facciamo ctrl p e facciamo l'imparentamento con pesi automatici ctrl p ok allora avendo fatto in questo modo quello che accade è che dovrebbe esserci tutto il rigging allora come facciamo a sapere se il rigging esiste allora ci sono vari modi uno dei modi diciamo così conoscitivi è quello di andare in edit della nostra mesh questa e poi da qualche versione di blender è possibile vedere anche i pesi corrispondenti alle varie ossa quindi vedete che io se clicco sul piede sinistro vedete che il piede sinistro mi si colora in un certo modo e quindi vuol dire che sta avendo effetto laggiù quindi è abbastanza interessante questa qui è la caviglia poi c'è il non so neanche come si chiamano questi nomi ma comunque sono tutti vari pezzi e sembra che siano colorati in un modo organico quindi sembra che siano quasi quasi buoni ci sono andiamo ancora a vederne qualcun altro elbow questo è la cosa eccetera però diciamo che il modo più efficace per vedere se è rigato bene consiste nel andare in object mode selezionare l'armatura questa e andare in pose mode a questo punto selezionando una una pezzo del nostro corpo possiamo fare ry e vedere se effettivamente si muove in modo giusto ora come vedete in realtà qui si sta muovendo in un modo che non è proprio quello che ci aspetteremo da un burattino perché vedete ry che si altera anche la parte di sopra questo perché i pesi appunto fanno sì che questo osso abbia degli impatti anche su quella parte questa cosa qua probabilmente andrebbe corretta ctrl z e per correggerla anche se adesso non lo facciamo vedere per esigenza di spazio vi faccio solo vedere la teoria quindi basterebbe in realtà selezionare il nostro mesh questa andare in weight paint ok e vedete che qui abbiamo un dosso selezionato ecco questo qui mhip right che ha degli effetti anche su questa parte qua quindi qua si tratterebbe in realtà di andare con certosinità a togliere questo verde come facciamo a togliere questo verde essendo in weight paint andiamo sul brush andiamo ad esempio sul subtract e poi qua con estrema pazienza vedete che coloriamo questo pezzo cercando di non disturbare la parte di sotto questo lo si può fare praticamente vedete si può operare poi eventualmente se vogliamo essere sicuri possiamo poi nascondere i pezzi che non ci interessano comunque mi sembra che sono anche sistemi per selezionare ci sono tutta una serie di utility che sono state introdotte proprio per fare il weight painting alcune di queste cose probabilmente le vediamo una volta prossima qui anche stessa cosa attenzione bisogna aggiustare anche qua insomma dovete verificare che rimanga che non si muova praticamente la parte questa come abbiamo visto che si muoveva adesso qui l'altà è sbagliata bisogna perché abbiamo erroneamente aggiunto un peso lì sopra quindi dobbiamo procedere a aggiustare quindi far tornare rosso questa parte qua questa parte qua è molto tediosa per riuscire a farla senza errori occorre proprio mettere delle maschere o comunque lavorare molto bene comunque già questo rigging qua probabilmente è leggermente meglio di prima subtract adesso aggiustiamo questo proviamo a vedere andiamo in object mode e poi andiamo in selezioniamo l'armatura andiamo siamo sempre in post mode e proviamo di nuovo a fare RY e vedete che adesso la parte di sopra è diventata molto più rigida di prima quindi abbiamo ottenuto in realtà vedete che c'è ancora un difetto qua quindi presumibilmente se selezioniamo la nostra cosa e andiamo in white paint dovrebbe esserci un impatto non voluto probabilmente l'effetto di questi affari qua quindi bisogna essere molto precisi alternativamente si può anche selezionare mentre si è in edit mode si possono selezionare i vertici che si desiderano per esempio questi qui tutti i vertici premuto L che seleziona tutti i vertici connessi e poi qua si può vedere praticamente da quale ossa sono associati e quindi qui si può eventualmente lavorare mettendo togliendo le varie cose quindi se qui si mette vedete che qui ci sono dei dati che sono sbagliati 0028 eccetera quindi probabilmente mhip right che è questo mhip left insomma ci sono tutta una serie di cose che andrebbero annullate per questo dovrebbe muoversi soltanto con i pelvis ma non con gli hip ok quindi mettendo questi aggiustamenti qua attenzione è che questa parte qua è una cosa che non vi ho fatto vedere a lezione ma è interessante perché se non riuscite a operare col pennello perché non si vede o ci sono pezzi nascosti questo potrebbe essere la vostra salvezza riuscire a capire esattamente quali sono i pesi quindi vedete che c'è mpelvis quindi se prendiamo il pelvis probabilmente qui tra l'altro si può fare mpelvis questa è una caratteristica dell'ultima versione che si può fare una ricerca quindi mpelvis vedete che mpelvis è questo e che peraltro 0,819 probabilmente quello che si vuole è 1 metterlo tutto e qua mtorso mettiamo 0 ok quindi in questo modo dovremmo riuscire a associare queste cose comunque lo studio poi ancora meglio questa cosa qua e poi lo vediamo meglio perché mi sembra che non l'abbia poi fatto nel modo in cui me l'aspettavo al limite si può anche visualizzare solo questo quindi facciamo facciamo ctrl i facciamo h nascondiamo tutti gli altri ho selezionato il pezzo l'ho selezionato tutto e poi ho fatto ctrl i ho fatto h per nascondere il resto quindi adesso c'è solo lui quindi a questo punto io volendo posso lavorare in weight paint non me lo lascio fare comunque queste tecniche poi le esploriamo meglio allora una cosa importante finisciamo perdere un attimo il weight painting supponiamo che abbiate fatto il weight painting il modo a questo punto per per esportarlo è quello di selezionare in object mode il mio oggettino cioè la mia cosina e poi fare file export con l'ADA default allora export con l'ADA default e qui andiamo a prendere operator preset e si più open sim rigged importantissimo e qui poi mettete le cose da rigare ora una cosa importante che avevo visto è che con spesso e volentieri può accadere che facendo questa operazione crashi tutto allora se succedesse questo prima di farlo ricordatevi fare un save quindi fate un save as e questo lo chiamiamo manichino prima del crash importante perché se per caso lo prendete selezionate il manichino fate file export con l'ADA default operator preset rigged e poi fate manichino speriamo uno dico speriamo perché spesso e volentieri non lo fa va in crash se facciamo export con l'ADA ok l'ha fatta allora forse la versione alfa che avevo della 2.70 che non funzionava quindi nel momento in cui abbiamo preso questo manichino possiamo andare in qui adesso sono su open sim con firestorm posso provare a fare l'upload mesh model e poi andiamo a prendere manichino speriamo uno eccolo qua e vedete che abbiamo il manichino il manichino preso questo signore manichino allora il fatto che l'abbia preso con tutti i pesi giusti ve lo confermo il fatto che c'è skin weights ok il fatto che c'è skin weights vuol dire che lui lo lo riuscirà a muovere però questa è solo visualizzazione quindi per fare effettivamente i pesi dovete fare include skin weights poi se per caso avete modificato le posizioni dello scheletro ricordatevi di modificare anche l'include joint positions questo grazie a more che mi ha confermato e in effetti ha senso che ci sono i joints messi giusti a questo punto si fa calculate weight and fees su open sim non dice un granché invece su second life vi dirà esattamente il peso ecco anche qui è un altro punto un po' tragico nel senso che se è molto grosso potrebbe darvi dei problemi qui è un po' un casino allora per risolvere questa cosa spesso e volentieri conviene prendere il manichino che è questo che adesso vedete che è fatto da tantissime facce molto spesso conviene provare a semplificarlo quindi per esempio decimarlo ridurre il numero di adesso lo riduco di un terzo di dimensione faccio apply quindi a questo punto il manichino è diventato eh qui è tornato a volta h vedete che è diventato molto con molti meno vertici però più o meno è ancora relativamente accettabile eventualmente vi ricordatevi di mettere in modalità smooth così siete sicuri ok che si vede un po' distintamente quindi riducendo un po' la complessità dovrebbe aiutare a volte poi dipende anche dalla versione comunque prendendolo facciamo di nuovo l'export con l'ada default di nuovo questa cosa qua manichino manichino prova 2 ok qui non è abbruttito e qui vediamo se ce la fa a fare manichino prova 2 ecco sono un po' di meno upload options skin weights proviamo a vedere se essendo più piccolo ce la fa poi dipende a volte open sim firestorm eccetera possono avere tutte le loro vere cose comunque se tutto funzionasse dopo un po' dovrebbe darvi l'oggetto memoria nel frattempo magari provo a caricarlo anche sulla beta grid aspettate ma sembra che sulla beta grid lo stia caricando con un pochino più di voglia sono 86 prima proviamo a farlo a caricare definitivamente adesso dovrebbe farcela probabilmente ok quindi quello che ha fatto è di avere questo stickman adesso detecciamo quello vecchio e indossiamo quello che ho appena tirato su eccolo ah vabbè qui ci sono alcuni problemucci da risolvere di normali però l'ho tirato su quindi come al solito il discorso vi ricordate di fare sempre le prove per verificare di evitare di buttare via inutilmente dei soldi quindi probabilmente se qui andiamo a vedere il nostro oggetto e poi andiamo con le solite tecniche di vedere ma in realtà era a posto quindi probabilmente si è confusionato ah no ma forse questo era quello già taroccato comunque controllate in ogni caso sempre i normali perché possono avere dei problemucci e vabbè comunque il compito appunto è di fare un po' di prove avete visto che è un po' più semplice farlo in beta grid perché su open sim possono esserci dei problemi aggiuntivi quindi conviene andare in beta grid e fare queste prove e poi eventualmente se tutto funziona rifate la prova su open sim perché a volte possono esserci delle differenze allora diciamo che questo è tutto per questa settimana vedremo forse un po' meglio la volta prossima come usare eventualmente avastar nel caso e come fare un pochino meglio il weight painting perché adesso l'abbiamo come al solito un pochino visto in fretta o come anche ereditare i pesi già fatti da avatar workbench ok è tutto buona serata o come un pochino